Il regista Dinesh D'Souza, la scorsa settimana, ha presentato in anteprima il suo ultimo documentario, Two Thousand Mules, nella tenuta del presidente Trump a Mar-a-Lago. Il film analizza la possibilità che si siano verificati diffusi brogli elettorali durante le elezioni presidenziali del 2020. Molti scettici dicono che i brogli ci sono sempre stati, che il 2020 non è stato diverso, e gli eventuali brogli non hanno cambiato l'esito finale delle elezioni. Abbiamo chiesto a Dinesh D'Souza perché ritiene che il suo film possa offrire una visione diversa. È dal novembre del 2020 che sentiamo parlare di anomalie. Trump ha vinto nelle contee principali, come mai non ha vinto le elezioni? E il conteggio dei voti che vedeva Trump molto avanti, come mai è cambiato improvvisamente la mattina dopo? E i casi di brogli episodici un po' dappertutto? Per quanto ne so, non c'è mai stata una dimostrazione di frode sistematica, organizzata, coordinata, di portata abbastanza grande da far spostare il risultato delle elezioni. Ma il regista spiega che nel film utilizza tecnologie all'avanguardia e videosorveglianza, per dimostrare che ci sono stati brogli di portata tale da ribaltare il risultato elettorale. Non è una deposizione giurata. È una combinazione di prove tecnologiche, fatta con la geolocalizzazione del telefono, che colloca i criminali sulla scena del crimine. Successivamente, si ricavano le prove video. Nel film compaiono Katrin Engelbrecht, di Truth and Vote, e l'esperto di intelligence elettorale Greg Phillips, che ci hanno spiegato come hanno estrapolato e organizzato i loro risultati. Le informazioni di geolocalizzazione sono reperibili sul mercato. E poiché siamo proprietari di un'azienda tecnologica, conosciamo bene l'esistenza di quei dati e come usarli. Abbiamo chiesto quali sono state le reazioni dopo la visione del film. Dalle persone che l'hanno visto lunedì sera, abbiamo sentito e osservato ogni tipo di reazione, lacrime, rabbia, tristezza, esasperazione. Gente che esce con la bocca aperta e dice, cosa sta succedendo? Come può essere successo qui in America? I detenuti del 6 gennaio rappresentano un altro pezzo del puzzle delle elezioni del 2020. Molti sono detenuti senza cauzione, sollevando questioni di giusto processo e costituzionalità. Abbiamo intervistato via telefono uno di questi detenuti, rinchiuso nel carcere di Alexandria in Virginia. Jake, in questo momento ci stai chiamando dalla prigione. Per prima cosa vorremmo chiederti dove ti trovi. Parleremo del 6 gennaio a breve. Ma prima ci puoi raccontare di quel giorno? Cosa ti ha spinto ad andare al Campidoglio? Sì, mi trovo ad Alexandria, in Virginia, in carcere. Sono in isolamento per 22 ore al giorno. Mi hanno spostato in diversi istituti di pena, dal gulag di Washington a Levisburg, in Pennsylvania, e ora sono qui. Continuo a venire sbattuto a destra e a sinistra, e non riesco a farmi ascoltare. Insomma, ho viaggiato un bel po' in questi ultimi 17 mesi in cui sono detenuto illegalmente dal mio stesso paese. Jake, come ti hanno trattato durante la detenzione? È stato tremendo. A volte sono stato anche aggredito dalle guardie per aver cantato l'inno nazionale. Mi hanno sbattuto contro il muro, preso a pugni nello stomaco, solo per aver cantato l'inno nazionale. Un'altra volta mi sono beccato un'intera bomboletta di spray al peperoncino negli occhi per aver chiesto alle guardie un po' di rispetto. Ho visto delle cose orribili da quando sono rinchiuso. Ed è veramente triste vederlo nel nostro paese e nel sistema giudiziario. Il sistema carcerario è corrotto e malvagio. In più aggiungeteci la persecuzione politica contro i conservatori e i patrioti del 6 gennaio. Tutte persone che quel giorno si sono fatte avanti per difendere il nostro paese. È simile a un enorme uragano di tirannia. Jake, hai fatto parte di qualche organizzazione che è andata al Campidoglio il 6 gennaio per rovesciare il governo? No, non ne faccio parte. E nemmeno ho mai sentito parlare di una simile organizzazione. Ho sentito solo parlare di un gruppo di americani coraggiosi che si sono fatti avanti per sostenere elezioni libere e regolari, che hanno usato il diritto costituzionale di libertà di parola per affermare il nostro dissenso. Ci hanno teso un'imboscata, siamo stati assaliti dalla polizia del Campidoglio e abbiamo deciso di difenderci. E mentre mi difendevo, Rosen Boyland, di 34 anni, una grande patriota, è morta per mano della polizia del Campidoglio, tra le mie braccia. Ed era disarmata. Stava solo esercitando il primo emendamento. Era lì solo per sostenere il nostro presidente e la Costituzione. Ed è morta tra le mie braccia. In realtà mi sono anche difeso e ho difeso un paio di persone. Due uomini hanno firmato una dichiarazione giurata, affermando che quel giorno ho salvato loro la vita. Mi potete vedere nei video mentre trascino Philip Anderson, privo di sensi e lo allontano dalla polizia del Campidoglio. Volevano uccidere anche lui, e per poco non moriva proprio accanto a Rosen Boyland. I video sono su j6truth.org. Jake, hai descritto la situazione terribile della tua detenzione. Nessuna cauzione e condizioni e trattamenti orrendi. Ovviamente hai avuto molto tempo per riflettere sull'accaduto. Secondo te, perché sei finito in questa situazione? Penso che sia veramente una cabala, un piano per demonizzare il conservatore americano, per demonizzare il patriota americano. E penso che questo sia uguale all'incendio del Reichstag per attaccare gli avversari politici. E ora hanno in mano il Partito Democratico. L'estrema sinistra può contare sul suo appoggio nella persecuzione dei conservatori in questo paese, usando come pretesto il 6 gennaio. Insomma mi ritrovo nel pieno di una guerra politica, che i democratici stanno muovendo. Voglio dire, non hanno altro su cui basarsi per dire che era terrorismo interno, che poi non c'entra minimamente con i fatti di quel giorno. Hanno costruito la loro propaganda su un mare di menzogne. E noi le abbiamo esposte su jsaytruth.org. Per cui, ora si attaccano all'unica cosa che hanno, pregando che questo li aiuti a influenzare le elezioni di medio termine. Ma in realtà sta succedendo proprio il contrario. Abbiamo un enorme sostegno da quelli che conoscono la verità del 6 gennaio, milioni e milioni di americani in tutto il paese che sostengono January Sixers, e che dicono che abbiamo fatto bene a resistere, a mantenere la nostra posizione. E che abbiamo fatto bene a difenderci. Siamo a un punto nel paese in cui c'è una forte maturazione nella direzione della fedeltà, nelle persone che sostengono il 6 gennaio o dei veri patrioti. Persone che sanno che la libertà non è gratis. In fondo, a volte bisogna farsi avanti e fare quello che è giusto. Jake, il tuo processo è stato calendarizzato? Vedi la luce in fondo al tunnel? Sì, l'hanno fissato per gennaio 2023. Quindi rimarrò in prigione per due anni. Non c'è più diritto a un processo rapido in America. Non c'è diritto alle funzioni religiose in prigione. Ti vietano anche di tagliare i capelli. E ci sarebbe molto, molto altro da raccontare. Stanno strumentalizzando il Covid per calpestare il Bill of Rights. In prigione non abbiamo più alcun diritto, specialmente i prigionieri politici, come quelli del 6 gennaio. E devo aspettare due anni per il processo. Non mi fanno uscire nemmeno su cauzione. La danno agli assassini di massa, ai rapinatori, a tutti, ovunque nel paese. In ogni situazione c'è un fattore di riequilibrio. Ma per gli oltre 50 prigionieri politici del 6 gennaio non esiste alcuna garanzia. Jake Lang, grazie mille per esserti collegato con noi dalla prigione di Alexandria in Virginia. Grazie infinita a voi per avermi invitato. Dio benedica gli spettatori. Siate forti. Sosterremo sempre la Costituzione.